Ciao a tutti, avete mai sentito parlare del fenomeno della zoomafia? Probabilmente no, eppure è un fenomeno che porta milioni di ero nelle mani delle mafie. Lo fa a discapito della salute pubblica e sulla pelle degli animali. Un fenomeno così grave merita attenzione, per questo il gruppo di lavoro tutela animali dei grilli dello stretto di Messina, ha deciso di organizzare un convegno, dove anch'io sarò relatore per parlare di questo argomento e portare all'attenzione della Commissione Antimafia questo triste fenomeno. Vi invito pertanto tutti quanti a venire a Palazzo Zanca, giorno 5 novembre, dalle 9 di mattina. Noi saremo là e potrete conoscere un fenomeno che merita molta più attenzione di quello attuale. Grazie. Grazie.